Questo video inizia con alcune premesse doverose. Siamo in un bosco di faggi, lo si vede. Le premesse sono due indicazioni che vengono fornite da degli strumenti che ora vi farò vedere. Uno è una volgarissima e semplicissima gussola che dà un'indicazione della posizione in cui noi troviamo in pratica intorno a sud. L'altra è un altimetro che come si vede dà un'altezza in questo luogo di 1300 metri. Dopodiché si va a risultato odierno. Anche oggi siamo ai limiti di quello che è la legge regionale per la raccolta dei funghi che sono 3 kg e infatti questi sono 3 kg. Il cesto è uguale a quello di ieri ma i funghi non sono più gli stessi. Questi sono altri funghi, altri 3 kg. Ancora una volta veramente sono dei piccoli capolavori. Guardate qualcuno tipo questo per esempio. Guardate qua. Insomma comunque questa è la raccolta odierna. oggi non possiamo andare perché i 3 kg sono giornalieri. Una piccolissima, velocissima panoramica. Ieri vi avevo invitato ma ne avevo disponibili solo 3 kg. Si allarga l'invito e ora siamo a 6 kg. Questa è la zona dove io mi trovo in questo momento. Tappeti di foglie. Arrivederci.